Signori e signori, il plageolette francese. Questo è uno strumento del 1850, marcato da un trouhaine, qui si dovrebbe vedere. Il flauto è in bosso avorio ed è un spettacolo. Vanno le ciacce, faccio sentire qualcosa. Vanno le ciacce, faccio sentire qualcosa. Rapparare l'esercizio colore ed è l'esercizio colore il indietro. Vanno le ciaci, faccio sentire qualcosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.